Le modalità con cui verranno investiti i fondi in arrivo dal PNR e dal Comune di Pesaro sono state un tema trasversale alle sette ore di lavori degli stati generali di midterm tenutisi lo scorso sabato fra il teatro sperimentale e i palazzi del centro cittadino. Fondi da gestire e da calibrare su tante opere pubbliche che potrebbero strizzare l'occhio ad un vecchio piano di recupero edilizio tuttora incompleto. Quello dell'ex carcere minorile ad angolo fra via della Robbia e via Bertozzini ovvero a cavallo fra centro e mare. Ex discolato che ora potrebbe passare dalla sua memoria storica di luogo di reclusione alla novità dell'essere punto di riferimento per la crescita dei bambini della città. L'ultima strategia concertata in queste settimane con il sindaco, con la giunta e con la provincia che hanno dato la disponibilità era quella di ridestinare, ridefinire quella che era il piano terra pensando a un vero e proprio polo dell'infanzia quindi un polo 0,6 anni e al tempo stesso però candidarlo per ottenere delle risorse e dei finanziamenti da parte del PNRR all'interno quindi del filone del polo dell'infanzia ma al tempo stesso riqualificando tutto il contenitore quindi avremo un edificio a posto dal punto di vista sismico, dal punto di vista statico, sotto il profilo funzionale che avrà una destinazione al piano terra a polo dell'infanzia e ai piani superiori invece con spazi pubblici che poi andremo a definire. Una rimodulazione in senso educativo che arriva ad un anno dall'accordo sul recupero dell'edificio diviso al 50% fra comune e provincia e a tre anni dalla messa all'asta dello stabile su base di 675 mila euro. Un'asta che però andò deserta e senza acquirenti. Ora invece una svolta pubblica in un suggestivo progetto con attività ad accompagnamento dal nido alla scuola materna.